Lo stabilimento, nato per consentire la produzione del nuovo modello di turbina domestica, è diventato ben presto terreno fertile per ulteriori progetti made in Italy, da promuovere all'estero attraverso un vivace incubatore di imprese. Il tutto senza finanziamenti pubblici. L'orizzonte del giovane imprenditore Gianluigi Parrotto si allarga sulle orme di un cammino avviato nel 2013 con una start-up d'impresa inglobata nell'attuale azienda. Se prima gli aerogeneratori venivano prodotti a Brescia, oggi, grazie al successo commerciale riscosso dal mini-impianto eolico e grazie al supporto economico di alcuni investitori statunitensi, il sogno del giovanissimo imprenditore si trasferisce al Sud, promettendo interessanti prospettive future. A 17 anni Parrotto ha creato il primo prototipo di pala eolica al servizio delle famiglie. La sfida è quella di continuare a puntare sulla ricerca per offrire a questo paese nuove occasioni di sviluppo. Oggi noi stiamo presentando la nuova turbina, il nuovo prodotto che sulla base delle esperienze dello scorso prodotto abbiamo oggi qui un qualcosa di innovativo e di diverso. Avere una turbina mini-olica domestica è innanzitutto un lusso perché è un qualcosa di importante, ha un costo che si aggira intorno alle 16-17 mila euro per una cosa che ci contraddistingue perché non andremo più a prendere l'energia elettrica da Cerano o da altre fonti altamente inquinanti, ma andremo a prendere l'energia elettrica da un apparato che produce veramente energia rinnovabile. Siamo di fronte ad un eccellente esempio di innovazione incarnato da un giovane italiano è il commento dell'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone. Il fatto che ci sia un giovane ragazzo che si vuole impegnare, che lo vuole fare con tutti i sacrifici di questo mondo dedicandosi da solo a trovare il finanziamento delle banche, dedicandosi a sperimentare nuove iniziative in settori che vanno bene come quello dell'energia e che hanno mercato e sperimentando anche sull'innovazione, quindi sulla produzione e commercializzazione di prodotti che sono prodotti oggi unici e anche con una buona idea di marketing.